La madre, Katron Bock, di origini olandesi, era una ballerina di danza del ventre di successo, il padre, Solomon Feltuse, musicista ex membro dei Kaleidas Club. Nella sua infanzia Fairusa ha vissuto in diverse città, come San Francisco, Vancouver, Londra. La sua prima prova cinematografica come attrice risale all'età di soli nove anni, nel film Nel fantastico mondo di Oz della Walt Disney. Altri film importanti, furono Volmant, Cosa fare a Denver quando sei morto, The Craft, American History X, quasi famosi e personal valassati, Il momento giusto. Oltre a recitare la Bock si dedica a comporre poesie. Inoltre, ha prestato la sua voce al personaggio di Mercedes Cortez nel videogioco Grand Theft Auto, vice-city di Rockstar Games. Grazie per l'attenzione. Iscriviti al Calane.